Radio più Roma presenta Parole di saggezza per un mondo migliore, un programma a cura di Margherita Merone. Salve amici, Santa Teresa di Calcutta ha testimoniato con le sue opere la vera carità, quell'amore incondizionato, oblativo, presente in ogni pagina del Vangelo. Fino alla fine dei suoi giorni non ha mai smesso di adoperarsi per gli altri, di agire fino a dove potevano le sue forze. Soccorreva i bisognosi, senza giudicare, senza nessuna barriera, tutti erano uguali. Faceva comprendere bene che nella vita non c'è un attimo da perdere, che non bisogna trattenersi mai. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece di compassione ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. E quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai.